la pausa secondo me è arrivata al momento giusto ripartire non è mai semplice ma non è semplice per nessuno perché realmente può sembrare che due settimane siano molto importanti per lavorare ed è così però anche la nostra squadra non si è allenata a ranghi completi abbiamo recuperato i giocatori mandi in mano in questa settimana fortunatamente sono tornati alle nazionali e stanno bene quindi salvo problemini dell'ultimo all'ultimo ora avremo tutti a disposizione o quasi quindi questo è una cosa molto positiva e al tempo stesso aver finito bene sicuramente ci può dare una spinta per continuare a cercare di ottenere sempre di più sapendo che questo non è facile però ci siamo ripromessi tutti insieme di di non volerci fermare di non accontentarci questo comporta non abbassare la testa domani contro un avversario forte se vivremo delle difficoltà se la partita non andrà bene se non riusciremo a fare la partita che vogliamo io sto parlando per l'ultimo rascio finale tra virgolette queste queste 11 partite mancanti dove dobbiamo cercare di fare più punti possibile ma i ragazzi ho messo tra di noi un obiettivo che ovviamente non vi dirò perché perché è nostro se ora parliamo di poterci giocare qualcosa col Torino con le squadre che sono lì vicino a noi per quello che hanno fatto i ragazzi nelle vento nelle 27 partite precedenti ma soprattutto nelle ultime 8 dove per me ripeto hanno fatto e non è solo per me però siamo una realtà importante ma piccola in serie A e quindi non ne parla nessuno hanno fatto qualcosa di straordinario e ora bisogna vedere quanta volontà ci mettiamo per per dar valore a questa cosa perché sono convinto che se riusciremo a dar valore a questa cosa parleranno e molto di quello che hanno fatto i ragazzi in queste otto partite perché rimboccarsi le maniche in un momento difficile quando una squadra si può creare alibi e così non è stato è sintomo di grande di grande personalità di grande consapevolezza di grande unione di grande spirito per me e ora arrivano le partite che contano per questo se riusciremo come dicevi tu a giocarci qualcosa per per la classifica attuale daremo valore veramente a una cavalcata di queste otto partite che ha pochi uguali per una squadra del nostro livello a metà a campionato in difficoltà però altrimenti se lo dimenticheranno tutti ecco quindi la partita di domani ha una valenza importante perché vale tre punti una valenza importante perché è un avversario molto ostico per noi e per tutte le squadre serie A per il Sassuolo tanto perché se nei precedenti tre nelle precedenti se non erano 13 partite in casa il Sassuolo ha vinto solo una volta contro il Torino questo la dice lunga sul valore dell'avversario quindi già per questo è la partita importante in più ovviamente come dicevi tu se guardiamo la classifica per quello che hanno fatto i ragazzi nell'ultimo periodo potremmo essere ancora più soddisfatti a fine partita sicuramente è stata una partita una partita gagliarda una partita fatta con l'atteggiamento giusto e dovremmo essere altrettanto bravi perché il Torino dopo le le prime della classe è la squadra più difficile da affrontare per noi ma non solo per noi è una squadra che che ti porta a forzare le giocate che ti porta a metterla sui duelli che ti porta a non giocare bene e quindi dovremmo essere bravi e come dicevi tu come è stato all'andata a fare una partita anche un pochino fuori dalle nostre caratteristiche se l'accetteremo riusciremo a rimanere in partita nonostante il risultato possa essere positivo negativo in equilibrio perché poi la partita le partite durano 95 100 minuti se invece non riusciremo a riconoscerci in una partita magari un pochino meno alla nostra alla nostra portata nelle nostre caratteristiche sarà una partita molto molto difficile domenico ha giocato la prima partita e tanto e ha fatto una buona partita la seconda non la giocata e racconta una cosa su domenica è rientrato un giorno prima aveva un giorno in più per riposare e ha voluto rientrare un giorno prima con la squadra per per fare una settimana completa nonostante io e lo staff avessimo dato un giorno libero quindi questo la dice la dice lunga sulla determinazione di domenico da da sempre da da un po questa parte e in questo momento sono sono contento di questo ho speso parole con la società ovviamente sono la società non credo che da sola avrebbe preso decisione anche se poi le decisioni spettano i dirigenti ma in condivisione e quindi il fatto che si dia continuità per me è importante in questa in questa realtà giocatori che hanno dato e devono dare ma non parlo solo in campo poi quando si parla dei giocatori e li fai capire che sono importanti non solo in campo se il ragazzo non è centrato pensa che allora non sono un titolare non sono giocatore no pedro è un giocatore importante in campo è un giocatore importante fuori dal campo nello spogliatoio nel gruppo in settimana e credo che la società anzi ne sono sicuro perché ne ho parlato con i dirigenti a tempo debito prima che ne parlassero con pedro la volontà è collimata con la volontà di pedro proprio per questo valore che che si riconosce in pedro quindi se lo merita e sono contento per lui matteo si è sempre allenato bene se c'è stato un momento dove è stato meno è stato ha trovato meno continuità in campo è perché secondo me altri stavano meglio di lui ora sta trovando continuità perché in allenamento e nelle prestazioni come dicevi tu sta facendo molto bene fermo restando che che ho citato anche altri giocatori del centrocampo che hanno giocato meno di matteo se in questo momento e hanno dimostrato anche loro di potersi meritare più spazio però è anche vero che ora matteo ci dà delle possibilità e delle situazioni di gioco che magari per caratteristiche altre non altri non danno al tempo stesso matteo acquisendo più consapevolezza giocando con più continuità può crescere deve crescere perché negli ultimi 20 metri per me deve avere l'ambizione di poter di far di più di poter riuscire a far di più perché realmente nel gioco da tanto negli ultimi 20 metri ancora per le qualità che ha è meno è meno incisivo di quello che potrebbe sinceramente ancora non lo so non non è una cosa che che non mi fa dormire dico la verità non è una cosa che mi toglie serenità quindi so quello che pensano che pensano di me i dirigenti e so qual è il nostro obiettivo qual è il mio obiettivo è quello di fare il meglio possibile da qui alla fine come ho detto cercare di ottenere con la squadra e parlo di squadra perché l'hanno dimostrato loro cosa possono fare di far più punti possibile e poi a tempo debito si parlerà anche di questo senza nessun problema e se le condizioni ci saranno perché no nel senso sicuramente si andrà dopo pasqua poi dopo il resto chiedetelo alla società perché non spetta a me e lunedì l'under 18 giocherà la finale del viareggio cap consecutivamente per due anni quindi non è cosa da poco si è vero che da un po non si gioca più con le primavere però rimane sempre un torneo prestigioso per l'italia un torneo importante e dove tutte le squadre professionisti che partecipano quasi o tante comunque del valore anche del sassuolo quindi il fatto che i ragazzi dell'under 18 allenati da pedone e gestiti da palmieri lo conoscete meglio di me possano rigiocare dopo l'anno scorso un'altra finale è motivo di vanto per tutta la società vi faccio l'in bocca al lupo e speriamo che che lunedì sera si possa essere tutti soddisfatti per l'una e per l'altra partita contro il torino grazie a tutti grazie a tutti